Nel clima incandescente pre-congressuale continuano gli incontri, gli scontri e le riflessioni politiche. Ormai sono rimasti pochi giorni. Venerdì 11 ottobre bisognerà ufficializzare le candidature degli aspiranti segretari e poi mancherà meno di un mese per il congresso provinciale PD, fissato per l'8 novembre. Tutti stanno cercando di imprimere un'accelerata alle trattative. Tra i big ci sono ancora due indecise, Loredana Capone, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe scegliere Piconese, e Teresa Bellanova, che potrebbe dare il suo assenso alla candidatura di Alfonso Rampino. Intanto Cosimo Durante non scioglie i dubbi sulla sua candidatura e si fa promotore dell'autoconvocazione di un'assemblea a copertino per una riflessione politica che porterà un documento partecipato, che nelle intenzioni dovrebbe mettere in campo le idee giuste per un partito realmente democratico, capace di fare fuori tutte le oligarchie interne. Nel comunicato i firmatari affermano di voler avviare una fase nuova. La nostra iniziativa è slegata dalla scelta del prossimo segretario nazionale, spiegano. La stessa nasce dalla convinzione che il nostro fronte di impegno primario è il Salento, la realtà in cui possiamo dimostrare direttamente e senza alibi chi siamo, cosa vogliamo e come intendiamo dar vita a un progetto di grande cambiamento di cui i salentini avvertono l'assoluta urgenza e necessità. Non abbiamo la presunzione di fare da soli perché l'impresa è proibitiva e ad alto rischio, ma poiché dappertutto prevalgono i tatticismi, avvertiamo il dovere di partire subito, al momento da soli, per dar vita a un partito che il Salento riconosca necessario ai propri interessi, spiegano i promotori dell'incontro, tra cui spiccano i nomi del professore Zaccheo, di Pierluigi Bianco e di Vincenzo Toma. Quest'ultimo nome sta circolando tra quelli dei possibili candidati. Intanto i renziani dovrebbero sciogliere il nodo della loro candidatura, circolano i nomi di Foresio, Puzzovio e Metallo, ma nessuno dei tre sembra essere disponibile. Restano pochi giorni per puntare su un candidato che rimetta in piedi un partito che nel Salento conta poche tessere e troppe correnti.